Salve raga, allora insomma la Juve ha vinto, oggi 2-1, vedi che la verità, salve dalla partita, mi sono addormito, mi sono addormentato, festa a Buffon, festa dopo, tutta la festa, tutti contenti, poi mi sono visto la partita del Chelsea, Chelsea Manchester United, la finale dei coppie d'Inghilterra, beh, è una buona partita maschia, la partita maschia, che il Conte ha portato a casa, ha vinto il secondo trofeo, l'anno scorso è il campionato, questa è la Coppa, beh, non male, non male, anche se con Abramovic, col Presidente su non si è vero tanto, però ha dimostrato che, insomma, il Conte rimane un vincente, un vincente rimane, anche se gli altri lo criticano, perché fino a che si vincevano gli scudetti, i tre scudetti, che la Juve veniva da un periodo di merda, come ho detto la Juventus era ritirata su Conte, che gli anni prima sembravamo degli scappati di casa, sembravamo, merito al Conte, se la Juve è tornata a essere vincente, oggi è quello che è, lasciando tutto in mano alla Lega, tutto pronto, e poi la società l'anno dopo, gli ha cominciato a comprare 2 miliardi di giocatori, cosa che è Conte, gli comprava i giocatori a parametri zero, ad Elka, poi gli comprava, come si chiama, l'altro, Stunt, ma è lì, Bentner, Bentner, insomma, giocatori, vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere, e, e niente, insomma, ho visto, io, cioè, contento che la Juve ha vinto, però, non ce la faccio a essere felice come dovrei, come negli anni passati, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, perché anche oggi ho dimostrato, anche se poi era, sempre scusi a stanno, vabbè, vabbè, oggi diciamo che era un amichevole, però la partita la dormisse, come al solito, e niente, e mi sono vista una partita molto più avvincente, molto più massia, più, capito, uno stadio Wembley, 100.000 spettatori, a vedere se sta a finale, è bello, tutto pieno, insomma, è stata una bella partita, è una bella partita, e, sono contento per Conte, perché, se lo merita, perché, come ha dimostrato, Conte è vincente, perché è normale, lui, ho messo un posto su Facebook, no, dove Conte, dice che, su Sky, aspetta, un po' lo rilego, perché, che, che poi, lo sono scordato, su Sky, stasera, quando poi, dopo la partita, l'hanno intervistato, Cione Conte vince la Coppa d'Inghilterra, ho scritto, non è facile, vincere, non è facile vincere in Inghilterra, non è come, come in Italia, la concorrenza è molto più, più aspra, più agguerrita, non come in Italia, che i titoli vengono già assegnati in anticipo, e io ho scritto Conte, non ho appena sulle lingue, ma questa, questa frecciatina, è rivolta alla società, alla società, perché è normale, adesso è normale, la società, si è sbizzarrita, quando è stato Conte, a riportarla a Juve, dove io competeva, con giocatori, che non erano ad altezza, aveva 11 dollari, Conte, se vi ricordate, non è che ce n'aveva di più, che si garribbia, chi c'aveva poi, Isla, Vucinic, quella pippa mondiale di Vucinic, poi chi c'aveva, Matri, certo, se andavamo per i giocatori di oggi e quelli di prima, è cambiata tanta, giusta la difesa era rimasta quella che era, certo, Pirlo, che era uno che all'Iri non voleva, ecco, Conte l'ha rigenerato, Pobba, che Conte era ragazzetto, ha fatto diventare un campione, che adesso se lo vedete al Manchester, non è magari più quel campione che stava a Juve, però con Conte era un grande giocatore, perché come ho detto, Pobba, però è normale, perché Conte è un motivatore, e si è visto pure all'Europei Conte, che è un vincente, anche se ha perso ai rigori contro i campioni del mondo in carica, ha perso ai rigori, per due cassate, una di Zaza, e l'altra di quell'altro sciomonito, che è nato a giocancina, che ha vinto contro il Belgio, che era favorito, il Belgio è una squadra fortissima, contro la Spagna ha vinto, e la Germania non ha vinto, ha rigori, usciti da due stronzate, due giocatori un po' mediocre, insomma, la squadra che scappai da casa, ma l'Italia è stata riuscita a fare una grande cosa, perché Conte è quello, è un gran motivatore, purtroppo quest'anno con Abramovic, non si sono presi subito, perché Conte voleva un paio dei giocatori, non solo li voleva, ma la squadra del Chelsea quest'anno è molto più fiacca dell'anno scorso, quest'anno è più fiacca, tanti mi dicono, uno mi ha scritto, ma Conte c'è Abramovic, ma che cazzo dici, che gli ha preso solo Morata, gli ha preso, gli ha preso solo Morata, ma chi cazzo ha preso, chi cazzo ha preso, ha fatto andare via 3-4 giocatori importanti, ha mandato via, si è venuti, perciò, tanti parlano, parlano, il Chelsea è una buona squadra, non è una squadra di top player, cioè c'era 2-3-4, forse 4 giocatori forti, adesso sono buoni giocatori, che lui riesce a, capito, però alla fine è arrivato in finale, la Coppa, pure l'altro anno c'era arrivato, l'altro anno l'ha persa, quest'anno l'ha vinta, poteva fare dupletta l'altro anno, quest'anno l'ha vinta, è uscito dalla Champions League, forse molti non si ricordano, contro il Barcellona, che il Barcellona ha fatto 5 di riapporto, e 5 gol, e il Chelsea ha dominato, ha dominato, sia l'andata che ritorno, perciò molti si scordano, però tanti lo guardano, guardano solamente, tanti guardano il risultato, poi il risultato non lo guardano, adesso ha vinto, ha vinto, ha vinto Conte, ha vinto, in Inghilterra è normale, le squadre sono molto più forti, che in Italia, c'è molta più competizione, c'è stanno 6-7 squadre, molto capito, in Italia chi cazzo c'è sta? Non c'è sta nessuno, c'è San Napoli quest'anno, che ha fatto un grande esplorato, perché ha avuto un allenatore, ha un allenatore, che ha offerto un ottimo calcio, offerto, è normale che non c'è i campioni, che c'è la Juve e Napoli, logico, però ha fatto un grande calcio, ha fatto un gran calcio, come ho sempre detto, Sarri fosse stata la Juve, avremmo vinto, 4 Champions League con Sarri, 4, tutte e 4, se fosse venuto al posto di Allegri, quando è arrivato Allegri, 4 Champions League avremmo vinto, però Conte, ha dimostrato, che Dovava riesce sempre a vincere, a fare ottimi risultati, certo, è normale, quella Juve che aveva lui, non aveva quei giocatori, e quei ricambi, che oggi a Levi, a Levi c'ha tre squadre, a Conte ce n'aveva una, per bucio del culo, ce n'aveva una per bucio del culo, e niente, io non sto qui a, dovrei commentare magari, la vittoria del campionato, della Coppa, la festa, sinceramente non ce la faccio, come ho detto, io da quando, da quando c'è stato allenatore, mi sta a far passare voglia, di essere Juventino, di essere, di essere, che amo sta squadra, tutte queste cose qua, mi sta a far passare, perché come se ti è mestrato, pure oggi, mi sta dormito, mi sta dormito, ragazzi, mi sono dormito, ho fatto, non la di sonno mi sono fatto, mi sono svegliato, fammi vedere che stanno a fare questi, perché proprio così, non ti mette più entusiasmo, non c'è più quell'entusiasmo, della volta, non c'è sta più, è finito, per me l'entusiasmo è finito, forse, sicuramente, il prossimo anno, mi guarderò la Lazio, sicuramente, sarò molto più, speriamo che Lazio, riesca a vincere domani sera, perché vince contro i prescritti, e va in Champions League, il prossimo anno, perché io sono simpatizzante, la serie, e sono simpatizzante del Chelsea, prima che ci stava Conte, perché io, il Chelsea, lo seguo da quando c'è Stavazzola, di Matteo, Vialli, Gullit, all'epoca, io, il Chelsea lo seguo da all'epoca, e mi è rimasta simpatica la squadra, la squadra, mi piace, la squadra estera, che io tifo la squadra, a prescita che ci sia Conte, ma io la tifo proprio, invece proprio il Chelsea, come squadra, mi è sempre piaciuta, poi sono sempre, ecco, Ancelotti, allenatori italiani, Ranieri, insomma, insomma, c'è una dinastia, di persone, dei italiani, insomma, da lì, dall'epoca, che io seguo il Chelsea, perciò, la Lazio, stava a Roma, simpatizzavo la Lazio, a tifoso, sono Juventino, quello, quello, non si cambia, però, purtroppo, sta passione, per la Juve, l'amore, per la squadra, e tutto quanto, sto, sto signore, che è allena, sta squadra, me l'ha fatta passare, purtroppo è così, e a molti giuventini, come me, la pensano come me, purtroppo, per la società, però la società, questa non lo guarda, so quello che cazzo guardano loro, e niente, io rimango del mio parere, quando, il giorno che questa allenatura andrà via, sarò felicissimo, sarò molto, molto felice, penso che, mi ubriacherò, molto, brinderò, che sarà nato, e niente, però quest'anno, come ho detto, se Allegri rimane, sicuramente, commenterò altre squadre, che non c'ho voglia, perché, è come se tu c'hai, capito, quel notino a un gola, no, che non riesce a andare giù, capito, è la cosa che non va giù, ecco, c'è questo, sono sciolino, Allegri, sta qua, no, e non va giù, purtroppo a me è così, non ce ne posso fare niente, è più forte di me, purtroppo a me piace vedere la squadra, che gioca bene, non si può avere, a me piace il divertimento, a me piace divertire, ma a me piace, quando vai al circo, ecco, io vedo uno spettacolo, mi diverto, vado a teatro, uno spettacolo, perché mi diverte, vado allo stadio, perché devo vedere una bella partita, perché mi diverte, perché mi entusiasma, Allegri non entusiasma, purtroppo, la società interessa solamente, vincere gli scudettini, già assegnati a tavolino, se vuol dire, come ha detto Conte, perché ormai, questo significa, che non c'è sta concorrenza, perché la Juve si sbizzarrita, e compra tutto quello, che gli vada a comprare, all'epoca con Conte, non lo faceva, che dopo, dopo tre scudetti, che gli ha portato, manco, manco due giocatori, come ho visto, come hanno comprato, sempre a parametri zero, in comproprietà, gli piamo a rate, faceva, faceva un ermuto, vabbè, diciamo bene, e Conte è normale, dice, dopo tutto quello che ho fatto, mi hai cacciato pure via, mi hai trattato come un coglione, è normale, che l'ha fatto bene, gli manda frecciatine, però, vabbè, comunque, ragazzi, questo è quanto, della festa Scudetto, della Coppa, sì, sono contento, perché sono giuventino, però alla fine, non me ne frega un cazzo, perché come ho detto, a me, se non si vince la Coppa, per me tutto il resto, non conta nulla, ormai Scudetto e Coppa Italia, per me, non contano più un cazzo, è come se, sotto ormai, che non esistano, se vinciamo, non vinciamo, per me è uguale, l'unico trofeo che rimasta, è quello, devo vincere quello, se non vinciamo quello, per me non conta più un cazzo, perciò, ci vuole un allenatore, che ci fa vincere, quella cazzo di Coppa, e allegri, non è un allenatore, di quello, che ci fa vincere, questa cazzo di Coppa, tutto là, ok, vabbè, ragazzi, io vi saluto, comunque, bella partita con le Orchersi, molto agguerita, come ho detto, sono felice per Conte, perché se lo merita, ciao ragazzi.